Allora, è Loser, Loser, Supporter, Final No, questo non l'aggiorno, si aggiorna solo No, un attimo, un attimo dove c'è tre qua Final abbiamo Che stanno usando? Incling, Mario, ok Che skin ha Mario? A posto potete andare Ma stanno già giocando No, no Ma cos'è sta cosa? Ma è tipo lo scroto di Incling nascosto Ma c'è una ricetta all'interno, vai Sì Ah, finalmente abbiamo un porca che si decide di usare il suo play, il suo game, va bene, avete capito? Questo è un gran set, sì Peppin, ciao Peppin Vabbè, event, chiaramente appena iniziata non poteva essere, siamo su Smash Bros Ok, questa è la tabella ed è done Sposta questa freccia che mi da pasticare Ah, yes Fornerato, subito Esizione di neutro Ottimo stop Cercava il gellock qui L'hanno cercato entrambi Di con l'arco di niente E questo è un problema Che ha fatto rientrare tranquillamente Questi sono danni Deveva essere quel 2% in più Perché altrimenti è un kill Questo è un bear? No, però è fair Probabilmente è un misclick No, non l'ho provato secondo me a coprire Cioè l'air bridge C'è la punish Si butta per un bear Ottimo Io sono deciso a fare fair con un pazzo Malato, essere morto Bravissimo porca attaccare Event sono entrambi a kill percent Però No, è più inkling a kill percent Diciamo che inkling ancora ce ne ha Per uscire Un cinquantino Un up smash Che prende la stock Bravissimo Allontanarlo Ottimo Anche se la sposti scoppia comunque Non dovrebbe scoppiare a testa Non lo so A me capita quando faccio il counter Ottimo Mi sa che qui è morto 171 di rain Si si ci da prende E' morto ragazzi a venti 170 mili d'age però fanno eh Eh Adesso sta un attimo cercando di prendere subito la stock Eh questa è una situazione abbastanza pesante Prendere subito la stock con un bear che non lo prende ancora Troppo presto chiaramente Ha rischiato di morire a zero Buono life tilt Ottimo Midi già kill 180 G pro che Va bene Even Più o meno Come lead Eh si Eventi percentuale Le 70 Bella lettura Cioè non so come abbia funzionato però Funzionato E' molto No Ce l'ha fatta a capire il salato Avesse avuto qualche percentuale in più Probabilmente ce n'eriva E qua cosa che stock Ottimo a competere con Nate No Non è stock Comunque one of seven Non ne sbaglia mezza Ho sbagliato da un true fake Sono io che la chiamo Non c'è quella fsmash lo cancella Vado per due giorni Non era più selezionabile Dopo impi Ah Bruttissimo Questo landing Intanto non se l'aspettava chiaramente E non viene punito Eh la situazione è davvero brutta Le sue Porche porra col run Subito La scelta è punita con l'up smash Primo game E one of seven 1-0 Aspetta la skin è quella da Spazzacamino Quale è quella da spazzacamino? Questa qua Perchè si sta guardando qualche anima? Cosa? 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 Venire a lavorare Guardate i game Fantastico Ah Pensavo in noi C'erano tutte queste cuffie che ho usato Mi stanno dando tanto fastidio Si porche si deve concentrare Questo succede quando switchi altri personaggi E' molto il tuo E poi lo prendi quando sai che gli altri che sto usando non possono vincere Certo Chiaramente Perdi l'abitudine Cioè Il fatto è che cominciando a usare tanti personaggi Cominci a prendere abitudini di altri pg O comunque Se le riporti nel tuo Esatto In un modo o nell'altro Io lo capisco un sacco Quando gioco pit Che è praticamente sbattito dicendo sul pad E poi Passo a pitch Tipo Ne soffro Eh comunque qua intanto la stock Sta andando via Cioè La situazione di strapping Ha una pair Dalla morte Sta provando già il secondo rullo Nel giro di 30 secondi che ha provato Eh vabbè Sta un po' disperando Comprensibile perché gli prenderebbe la stock Però La meno è che si ripete lo stesso scendere E' molto Molto punito Come attacco Ma l'ho ucciso Ah smash Sul rullo di nuovo Ah sul rullo eh Si Non ha provato il rullo in salto se mi sbaglio Ed ha coperto quella Ottimo fail Ok Eh questo è brutto perché Ah per poco Non l'avrebbe killato probabilmente Però almeno erano danni Ottimo Bella ladder Stava cercando di girarsi Stava cercando di girarsi Sì Ottimo stalling in aria Ok No no non certo Prende i frame No ci prova Ora 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 Sì Ora lo piazza tipo in reverse Ecco 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 E' davvero brutta secondo me Contro Mario Bravissimo Bravissimo Mamma mia Mamma mia Bravissimo Allora Se prende la stock subito E' reversabile Attenzione Nair Cercava il Nair Probabilmente Bravo Ci stava Quella pair killava E' morto No poteva fare up smash Dopo il neutral get up Cioè quando fai get up attacco Comunque Non c'è appaggione con un vento Oddio No no La pair killa dopo dopo Eh la situazione è brutta adesso Dopo l'avvero brutta muore da ogni cosa E deve resistere ad un'altra stock Se prende questa Eh infatti paziente Paziente Può fare tutto porca E' morto Non vincere questo game Io prevedo una Samus No 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 Mantiene inkling Secondo me si Perché Non sta giocando Dopo aver Se si è convinto A prendere inkling Penso che vada bene Perché sai che tutto il resto Non funzionerebbe Eh si Già contro Contro Ben Non ha funzionato Per esempio Samus Adesso non funziona con Ben Ovviamente Pensi che Non va bene Ho capito che Roletti sa quanto Mica è pitch Samus Capito porca Spero che lo ascolti Vai porca E' contrariato E' contrariato E' un po' Deluso Prastornato Mario Eh Ecco Pare Mitra ecco La decisione Sicuramente il match up è buono Anche se c'è secondo me Una dinamica che potrebbe Mandere a puttane La recovery Di Mitra Cioè l'acqua Sul 6b O in generale l'acqua Penso che difficilmente Mamma mia che schifo Le sporco Eh vabbè Eh raga Ci sta E' un pg come gli altri Lo so E' un pg Perché due frame Comunque La situazione è totalmente Even 26 26 Non più Perché l'ho detto io Ok Qua questo è juggling E' un pg Un pg A cinque minuti Non toccherà più Terzo Ok Presto, presto, presto Per passare a fire Eh no, in quel momento no Perché se l'avesse preso Con la down tilt L'avrebbe mandato in una Pruttissima dopo il fire Infatti ha svecciato di nuovo Bravissimo, leggero adesso Pyra ultima Gira quel dash attack Morto no, ultima di Rai, Pyra pure pesantina Bravo, cercava nel roll ma non lo ha giocato prima Non è stock però, è una brutta situazione Siamo sentati bravo a stare scildato lì perché qualsiasi posto falso ti porta a morire Ah, peccato Nooo, una fear magari doveva provare Lo doveva fare il reverse, l'avrebbe preso il mozzo No, non è morto Eh, questa è brutta situazione Si è lontano, non capisco perché c'è da il posto Perché back throw avrebbe killato lì, quindi si è allontrato un attimo Ci sta, però lo stage control è stock Prova tilt, una serie di attacchi ma... No, non è morto Eh, diciamo che Pyra funziona però se ci stai attento Diciamo che non è facile, è più che altro in situazioni di ledge truffing Che funziona di più No, perché switchiamo? Eh, perché in neutro voleva mandarlo perché magari prima in disadvantage No, brutto da scelta Sta cercando il fair, cerca qualche aerial che comunque prenderebbero la stock Eh, in particolare, neir o neir? Neir, neir Tutto da rifare Beppe Situazione even, però ricordiamo che stiamo... Comunque sembrano funzionare Sì, stanno funzionando probabilmente meglio Non dovevamo dirlo Non funzionano più molto bene È brutta questa situazione La situazione di 2-0 sotto di una stock Potrebbe essere l'ultima stock di poche Per questo torna Adesso è in vantaggio Sta tenendo bene Già 0-60 Non doveva switchare però Continuava a giagglare Ok, sta continuando Lo vedo un po' Frettoloso Troppi attacchi No Non viene punito Cioè un dash attack poteva anche esserci probabilmente Però niente di che Ma ha preferito non rischiare la controponizione Ci sta Molto previdente da parte di Monoseben La roll Schivate forse stock No Doveva bufferare il salto prima Niente Ci sta andando molto vicino comunque Poi Andrò a switchare Serve una buona interazione per prendere la stock Ora ma Questa è pesante Ok Niente Va bene 61% Susseso sul 96 È ancora fattibile Questo perché manda subito Può prendere la stock adesso Cerca la spike Bravissima Probabilmente è meglio cercare la down tilt In questa situazione Perché non è facile prenderla Ok Stage control da parte di Porch E' un tilt Che non connette E' questa è la doppia Bravissima Ottimo switch Ottimo switch Cerca la tilt ma non la trova Bella la reverse tilt Ma ancora in questo caso C'è un muro davanti Monoseben sa Che quella percentuale Se la deve tenere Quella stock No Troppi attacchi Eletrocitazione brutta Era morto Mi ha aspettato proprio lo switch No Mestli Salvalo Salvalo Niente Come mode Fini